È stata l'occasione per firmare l'ennesimo accordo che consente all'Abruzzo di utilizzare quasi integralmente i fondi che da 25 anni restavano fermi a Roma per l'edilizia sanitaria. Con questo ennesimo accordo liberiamo 49 milioni dello Stato, più 11 della Regione, per ristrutturare, ammodernare e mettere a norma l'ospedale di Chiedi. Si aggiunge agli oltre 380 milioni che già con gli accordi precedenti abbiamo liberato per i nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto, per la centrale 118 dell'Aquila che è già un cantiere aperto e già in corso di realizzazione e per altri interventi che cambieranno il volto della sanità abruzzese e la metteranno al passo con i bisogni dei cittadini.